Via! 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 Napiosi e polizia! Ci sono mille persone, ci sono mille persone, ci sono mille persone. A la meta! A la meta! A la meta! Oh! 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 No! Oh! Oh! Il senatore della Repubblica, vergogna, vergogna il senatore della Repubblica, vergogna, vergogna, è una vergogna, è una vergogna. Il senatore della Repubblica Grazie a tutti 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 Grazie a tutti